ciao ragazzi buona domenica a tutti bentornati ad un nuovo video abbiamo ancora qui una nuova una un'altra barbie extra quindi direi che con questa però io personalmente concludo perché ho avuto le quattro che mi interessavano mentre l'altra non mi piace assolutamente e quindi non la prendo aspettiamo adesso la seconda web in programmazione dove dovrebbe esserci anche ken quindi si parte per la seconda web ma intanto scopriamo lei che è la numero 4 della prima allora la scatola è sempre uguale come le altre d'eccezione dell'artwork dove possiamo vedere la nostra amica con i suoi due gattini e lo skateboard che esce anche in dotazione e poi al lato c'è un artwork di uno dei gattini e dietro una panoramica della nostra amica con tutti i suoi accessori e questa è tutta la serie io ad eccezione di questa che non prendo le ho tutte quindi direi che possiamo andare a dimenticavo se volete le barbie extra visto il boom successo che hanno le potete trovare in offerta dove acquistato anche questa nei punti vendita giochi se non lo avete nella vostra appunto donna lo potete trovare su internet perché sono in offerta 26 e 99 attualmente prezzo più basso in italia quindi se avete un punto vendita giochi oppure andate sul sito giochi punto it trovate le barbie extra a 26 e 99 detto questo vado ad unboxare ci vediamo tra pochissimo allora ecco la nostra amica direi di partire dai capelli praticamente chiedo scusa ma poi dovrà dare una sistemata sti capelli non è che vadano proprio a 360 gradi però ha tutto questo a mucchio dietro che praticamente da un lato è fatto bene dall'altro è un po da sistemare diciamo e quindi provvederò a metterla però comunque i capelli sono di buona fattura quindi tuba molto vaporosi però sono di buona fattura e impiantati molti giustamente l'impianto diciamo la scatola come sono stati messi nella scatola che hanno creato un po di scompiglio però possono essere aggiustati sono azzurri con questo scignone sulla testa la faccia è fatta in questo modo a delle lentiggini a del fad del mascara color marrone rosa il rossetto fucsia a questi super orecchini con la scritta power da un lato e girl da un altro talmente dei capelli si si sono impiegati anche nell'orecchino ma che cavolo va bene dopo la sistemiamo poi a questo outfit molto carino con questo con questa felpa che è di un azzurro eletto di un blu elettrico con rifinitura sulle maniche in questo modo ea se riesco a mostrarvela anche queste specie di zip catene insomma disegnate ai lati sono stampate e si ripetono anche da questa parte indossa questo orologio rosa molto carino per quanto riguarda invece sempre la felpa all'interno è arancione ed ha anche una zip che però non potete mai chiuderla perché lei è un po in carne e poi sotto a questa t shirt multicolor di varie fantasie come potete notare con brillantini e i brillantini sono ben saldi indossa questo massupio verde fluo con cinturino bianco stampato e dei shirt bianchi con dei bottoni rifiniti in questo modo e delle scarpette da ginnastica verde fluo inoltre indossa anche un bracciale fatto in questo modo simile argentato e grigio movimenti sono basici quindi standard nodata diciamo come le prime fashionistas e questa è la nostra amica curvi ripeto se l'acquistate bisogna fare attenzione sono stato veramente molto delicato però a rimuovere i capelli perché insomma ci sono legacci twist piso capisce niente però è molto bella poi in dotazione arriva uno skateboard con la scritta malibu molto carino due gattini simpaticissimi e dolcissimi e come sempre un paio di occhiali e questa è la barbie extra numero 4 io sono molto soddisfatto di questa linea di barbie extra perché mi sono piaciute veramente tanto non vedo l'ora che arrivi la seconda perché continuerò ad acquistarle e ve le consiglio altamente quindi insomma spero che mattel continui oltre la seconda wave a fare anche play set perché oltre ad avere un grande successo questa linea insomma merita a me è piaciuta veramente dato e sono veramente coinvoltante è vero che mi sono preso anche un'altra barbie per deboxar perché se ricordate la prima extra barbie l'avevo lasciata in scatola comunque barbie resta la mia preferita ma sono tutte belle sia nikki che lei che quella con le treccine arcobalè sono tutte belle l'unica che non mi piace è quella vabbè lasciamo stare io comunque vi mando un bacione vi ringrazio per aver seguito questo video vi do appuntamento se dio vuole domenica prossima fantastica settimana a tutti e pace